è stata fatta la tua dai porca madre ne manco la tua io ci passavo i 200 se non era la mia e uno è stato sorbassato sai che qua io non freno dovresti farlo anche se ci sono stia motore il bello della diretta spattiamo i miti sembra di vigerci un treno e quando freno fissi mi sta andando pesante guarda di quanto sto migliorando mi ha best ah pure è anche di grandi se migliori certo se c'è una dei caspi rossi come è molto più che bello è un 100 fuxi al primo settore non frenare vai 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 bravo ho smesso di fischiare terzo giro buongiorno ah io appena che ho messo un omicidio si è preso una bella botta lui si è preso una bella botta lui si è preso una bella botta lui ok ok vai freni troppo atti no 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 ho le pastiglie troppo calde ho le gomme troppo calde ho messi sto tipo girando tre non ho fino a bs peso no 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 tu si è coli i biorano tutto no 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 questo pezzo qua è da terza anche io dove ho fatto terza prima per me in tutto il settore che io ho ucciso l'uccello hanno messo bandiere delle gialle per me guarda che bella pista libera ma io ho trovato un sacco di traffico ho tirato fuori anche i cavalli che non arrivo per l'occasione ho svuotato un maneggio di soldiaggio mi chiesto l'aiuto da casa mi chiesto l'aiuto da casa mi chiesto l'aiuto da casa non mi chiesto l'aiuto da casa faccio un po' mi passi e dico dentro o apposta indietro cerco di fare il suo 3dm perché tu non hai un 325 di gomma e anche sui carini da con ceramici sai cosa c'è a non c'ha lui? ignoranza vieni come non so cosa 9 giorni che non andavo mi sto guidando col c***o infatti non va via perché ci sono le crume non va via le federal poverine ci sono le federal si stanno facendo un segno nella c***o non avevo tempo per fare la curva qui saltiamo? si forza ve l'ho detto che 1200 kg si si ci sono sentiti tutti telefono salto 15 secondi matte è il traffico non hai beccato il traffico lì mi ha salvato qualche santo San Biagio San Biagio San Luca da San Biagio 16 secondi stiamo sotto i 9 stiamo sotto i 9 mi se leggerisce 8.44 lo prendi? signori 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 campioni del mondo campioni del mondo sono ancora vivo sono ancora vivo con la spia motore ecco però ha registrato con la spia motore volevo anche con un cilindro in meno che giro ha fatto Matte? possiamo andare a casa? ci torno a casa con la spia motore che giro ha fatto Matte? non facevo tempo con i 5 minuti non facevo tempo con i 5 minuti in Italia si fa la raffinata vediamo l'olio 72 milioni di gradi 116 dai non fa non fare